Cari amici, sono qui per presentarvi il progetto Bizarro e di qualità, il progetto Canta Brasil. Sono riuscito a unire quattro cantautore della musica popolare brasiliana da più di vent'anni in Italia. È una musica classica, una musica soft e una musica d'ascolto. E nell'ultimo set, come il Brasile, da questo boom di allegria, e l'ultimo set di questo concerto verrà fatto musica da ballare. Sono riuscito, finalmente, di unire quattro cantautore della musica popolare brasiliana. Toni, Silvana, Anna Flora e Aline. Ogni nome è una garanzia. GG Show e Monimax, in organizzazione di questo evento, il 25 maggio, in strada estatale paulese, a 20 minuti da Milano, a zona gialla, la metropolitana San Donato, e a 20 minuti da Crema, noi siamo proprio in mezzo tra Milano e Crema, nel Cursal Pub Disco. Questo evento inizierà alle ore 18 con una pericena italiana e una pericena brasiliana, ore 18, a costo di 20 euro a persona. Per quanto riguarda i bambini, fino a 10 anni non pagano da 10 anni, in su, ovviamente, sarà a 10 euro. E la pericena concerto, drink, compreso a 20 euro. Ok? Per cui, questo è un evento molto importante, molto bizarro, che sto organizzando con lo staff, il mio staff. E' un invito particolare, perché questi cantanti vivono in Italia, come a me, da più di 20 anni, e hanno creato la loro cultura in Italia, portando la musica popolare brasiliana, diversa di altri generi della musica brasiliana. Per cui, è un concerto importante, sono 7 componenti, tra 4 musicisti e 3, scusami, 4 cantanti e 3 musicisti. Per cui, ragazzi, vi invito, con tanto affetto, per il progetto Canta Brasil il 25 maggio. Un bacio da Gegé. Un bacio da Gegé.